Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul jet privata di bella faccia come state ho fatto un super tour all'interno del mio mondo però adesso è arrivato il momento di fermarci ehi aereo a mali estremi allora vediamo il pistone lì a mali estremi devo essere pronto estremi rimedi no 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 il mio aereo oh mio dio si è rotto l'aria non ci posso credere mayday 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 fermati 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 no porca miseria ok 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 oh no oh no no il mio minecart il mio al volo al volo no il mio minecart ragazzi mi si è distrutto l'aereo no dov'è aspettate fatemi alzare il render no è là sta andando porca miseria da solo non ci posso credere guardate si è spaccato tutto che cavolo è quel coso lì ma è una stella ah si no il mio aereo ragazzi ma dove andrà non ci posso credere guardate chissà dove sta arrivando il mio carrello comunque ciao a tutti ragazzi sto facendo un bel bagnetto all'indietro ma come cavolo sono oh mio dio ok questo episodio è pazzo come state spero tutto bene ok signore tartaruga abbiamo avuto un inconveniente orribile il nostro aereo se ne sta andando chissà dove oh ma non rompere non rompere le scatole dai però mi dispiace l'avevo appena fatto porca miseria e l'ho già rotto vabbè almeno salverò degli slime lì dai però uffa che cosa facciamo oggi voglio fare finalmente una challenge che mi avete consigliato tu oh ragazzi ma lo vedete quella cosa la oh mio oh mio dio ma non c'era prima ma non c'era prima no ragazzi ragazzi è la skin è la oh 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 no no fatemi tornare a casa un attimo dai fammi volare no ragazzi non ci credo ragazzi non ci credo ragazzi non ci credo oh c'è qualcuno lassù c'è qualcuno lassù è uno scheletro ragazzi non ci credo è la skin dello youtuber misterioso cioè sei uno youtuber o sei un hacker ragazzi ma io vi giuro non c'era prima l'avevate vista cioè io io li ho io li ho registrati di fila questi episodi ok c'è tab non me lo fa premere wally ragazzi che cavolo è quella cosa che cavolo non è che mi compare allora dobbiamo stare ultra attenti perché potrebbe comparire da un momento all'altro mi avete consigliato di chiudere il server a tutti e dopo questo lo farò però devo informarmi perché io non ho idea di come si faccia io non so come si chiuda devo informarmi perché non voglio fare cavolate non ci posso credere allora abbassiamo i cianco un attimo no ragazzi non ci posso credere non ci posso credere ha fatto una costruzione la sua faccia guardate com'è orribile mio dio adesso qualsiasi cosa vedo mi sembra lui ragazzi è inquietante no io io devo chiudere l'accesso purtroppo a tutti i miei amici tranne Kendall perché lui c'era sicuramente non è lui ragazzi io cioè non ho parole non so che cavolo fare sono andato in crisi come l'altra volta devo andare a vedere allora facciamo così andiamo a dormire prima e poi andiamo a esplorarla cioè non c'era io vi giuro che non c'era quella costruzione prima non c'era fidatevi e ovviamente premo tab e non c'è nessuno ma perché sono in single player mi avete detto che comunque sia è quasi sicuramente un hacker però io non so che cosa fare ragazzi c'è non mi era mai capitato prima io solamente ho dato l'accesso a tutti i miei amici youtuber e non lo so magari qualche dato è passato e questo qui ha trovato l'ip del mio server non lo so non lo so non riesco a capire ok dobbiamo andare a esplorare quella faccia orribile cioè è terrificante ragazzi è terrificante se sembra fatta di calcio e struzzo non riesco a capire che cavolo è quello quelli sembrano scalini o lastre che cavolo è cioè la sua skin è orribile ma perché questo deve venire qua a costruire le sue cose cioè io non capisco io non capisco wallie stai attento mi raccomando eh allora armatura ragazzi ho una paura incredibile che possa apparirmi davanti ai miei occhi allora questo c'è le cose per tirargli le mele abbiamo tutto io ho paura di vederlo vi giuro mi è bastata quella volta e non ho più voglia di di vederlo ok allora pare che non ci sia no avete sentito? ho sentito qualcosa o era uno scheletro è una caverna è una caverna sotterranea ragazzi io ho paura non voglio scrivere io non voglio scrivere perché ho paura magari se non scrivo lui non sa che sono qua sono delle lanterne sono delle lanterne con degli scalini mio dio guardate il mio aereo lassù come ha fatto a fare questa cosa io non l'ho visto c'è sicuramente quando stavo costruendo l'aereo c'è vuol dire che questa cosa lui l'ha fatta nell'episodio precedente c'è ieri ieri? oppure c'è ieri quando abbiamo fatto la casa moderna non mi ricordo non mi ricordo più niente ragazzi sono andato già in panico o se no prima l'ha fatto come ha fatto a farlo prima e poi è inquietantissimo oh c'è un cartello c'è un cartello cancella cos'è che c'è scritto? eh? cancella il tuo mondo bella fazza ma mi prendi in giro? ma mi prendi in giro? mi minazza ma mi ma che è? prova a entrare non ho torce prova a entrare oh piano sto così così lo vedo al limite ok qua pare che non ci sia nulla c'è solo sto cartello e che cavolo è qua? no 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 oh mamma non è che arriva da dietro io col cavolo che scendo fin là su ma stiamo scherzando? io ragazzi non scendo manco morto lì sotto cancella il tuo mondo bella faccia ma che cavolo vuoi da me? che ti ho fatto? ma che gli ho fatto? questo non è un mio amico questo ragazzi non è un mio amico è un hacker sembra un haters hacker ve lo dico io porca miseria non si posso credere e qua sotto io non posso assolutamente andare da solo allora domani si sarà Kendall spero e gli chiedo di entrare con me perché oggi non c'è purtroppo io non mi fido di andare laggiù io non posso perdere il mio mondo per tutti questi haters e hacker non ci posso credere ragazzi è un haters mi odia mi ha scritto che devo cancellare il mondo non ci posso credere eh? cosa? ma qua c'era ma che cavolo è successo? ha chiuso tutto ma che razza ragazzi è crollato tutto no vabbè no vabbè vabbè no 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 la cosa positiva non vorrei tirarmela è che non l'ho visto forse non c'è c'è porca miseria non è che può stare 24 ore su 24 dentro il mio mondo allora faccio così domani che verrà Kendall proviamo a togliere tutti gli altri marci tutti ragazzi tutti tutti quelli che sono mai entrati qui dentro e la cosa che mi preoccupa è che io avevo dato purtroppo anche altri accessi a dei miei amici che ancora non erano entrati però mi tocca togliere tutti gli accessi non ci posso credere c'è ha fatto una base segreta qua ha fatto una base segreta qua con delle scale allora domani io spero proprio che Kendall venga andiamo forse a vedere cosa c'è lì e togliamo tutti e io non so che altro fare perché non ha il nome noi non sappiamo neanche come si chiama questo tizio mi raccomando scriveteci scrivetemi cosa possiamo fare perché non mi era mai capitato prima d'ora che qualcuno un hacker o un hater si entrasse nel mio mondo ragazzi allora dame la faccia è tutto ci vediamo dopo con un nuovo video io non ho paura di niente mi raccomando ti vediamo duro ciao 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 ciao